serie b girone b calcio a 11 questa sera al corvetto penultima giornata si affrontano globuli rossi contro mickey team globuli rossi 15 punti abbiamo il mister alessandro beltrami ciao ciao qui invece per mickey team abbiamo una vecchia conoscenza di sport channel mister talisano c'è anche a te ciao allora insomma avete fatto un buon finale di campionato queste ultime partite per il resto della stagione non è data benissimo 15 punti come mai insomma questo cambiamento di andamento ma abbiamo fatto un po' apposta no a parte di schiena tutto calcolato sì sì certo no beh la pretesa sera come quando si gioca a risico e uno mette 30 cararmatini contro quattro in una sola nazione bisogna cercare con quei quattro di farli fuori piano piano senza avere fretta loro sono molto forti si giocano i playoff ci proviamo come la settimana scorsa con la commenda che abbiamo che abbiamo vinto ci proviamo voi appunto avete 39 punti classifica 24 più dei vostri ammessi secondo posto però la stagione ancora tutta da giocare queste ultime due partite tutta da giocare fino alla fine bisogna concentrati combattere e sudare ogni partita è difficile infatti bisogna assolutamente darci dietro soprattutto visto gli ultimi risultati dei vostri avversari che sono veramente esplosi esatto non ci speravamo c'è una piccola speranza però visto che è andata così non dobbiamo buttare via quello che abbiamo fatto alla data avete perso contro i vostri avversari di questa sera quindi però abbiamo giocato abbastanza bene quindi ma sono fiducioso abbiamo pochi cambi in panchina cercheremo di vendere cara la pelle come voi com'è la condizione della vostra squadra ea fine stagione è quella che gli si dà tutto comunque allora datevi la mano insieme di fair play buona partita che si dà tutti i nostri ammessi è stata fatta da giocare ea fine stagione è stata fatta da giocare Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.